Per me questo corso è stato particolarmente affascinante, è stata un'esperienza che ha aperto la mia mente, il mio modo di vedere le cose. Sono entrata in contatto con una realtà profondamente diversa dalla vita e dalla realtà che abbiamo in Italia. Diciamo che abbiamo un approccio completamente diverso nell'affrontare le start-up, nell'affrontare la vita lavorativa, tutte le cose che in Italia potrebbero diventare difficili, in Silicon Valley, diventano molto più facili.